A Teramo l'assessore alla pubblica istruzione Miriam Tulli ha annunciato che le menze scolastiche delle scuole dell'infanzia e primarie di Teramo riapriranno il 30 settembre. Questa decisione ha suscitato però forti critiche da parte della CGL di Teramo. Il sindacato infatti aveva richiesto il 25 luglio scorso che la riapertura delle menze coincidesse con quella delle scuole, come confermato dal comune di Giulianova. Tuttavia il comune di Teramo ha scelto di non seguire questa raccomandazione tornando di fatto alla situazione dell'anno precedente. Ci sorprende questa decisione visto che lo stesso appello che abbiamo rivolto ai comuni, in particolare ai più grandi, dove c'è una popolazione scolastica più intensa, di numeri più importanti, già l'anno scorso abbiamo chiesto che le menze riaprissero all'inizio dell'attività didattica. Pensavamo fosse un problema annoso, ormai risolto. Invece dal comunicato stampa dell'assessore Tulli del comune di Teramo scopriamo che il comune di Teramo fa un passo indietro. Le scuole riapriranno, secondo dei diversi orientamenti dei dirigenti scolastici, dal 10 al 15 settembre, ma le menze del comune di Teramo riapriranno il 30 settembre. Una scelta che per il segretario provinciale della CGL Cordone rappresenta sia un danno per le famiglie, ma anche per i lavoratori delle menze. La possibilità sarebbe quella per le lavoratrici di quelle menze di poter lavorare dal prima possibile. Per le famiglie avere un servizio che parta insieme all'attività didattica, anche perché il tempo pieno spesso non è scelto. Lì dove è scelto c'è ancora più una necessità che ci sia la menza, lì dove è imposto da una settimana corta, che fa fare solo cassa ai comuni, senza una reale discussione sulla valenza pedagogica della settimana corta, immaginiamo che ci debba essere un servizio to-cour, così come avviene sul trasporto scolastico, anche per le menze si debba partire dal primo giorno di scuola.